Jingle Spot www.pronosticoonline.com rubriche, pronostici e consigli per passare alla cassa Trovano conferme le voci riportate in mattinata dall'equip L'incontro fra Ben Arfa e il Barcellona c'è stato E lo stesso presidente del Nizza, Pierre Rivera, a rivelarlo ai microfoni di TV3 Non mi hanno confermato che l'affare è fatto, ma c'è stato un incontro, ammette il presidente Sarei contento se l'affare andasse in porto, significherebbe che il Nizza ha calciatori eccezionali come Ben Arfa www.pronosticonline.com Tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto Inoltre, Elp Serie A, Elp Premier League, Elp Liga, Elp Bundesliga Tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti Partita per partita, per passare alla cassa Su pronosticonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati Pronosticonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni Scommettete sempre responsabilmente Partita per partita, 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 per partita. Grazie a tutti